L'ITS Academy Meccatronico Veneto, scuola pubblica di specializzazione post diploma, apre un corso nella nuova sede di Belluno con 24 posti a disposizione. Nel mese di ottobre partirà un corso per tecnico superiore per automazione e sistemi meccatronici. È un corso che si svolge su due anni con metà del tempo trascorso in azienda, in aziende specifiche del settore meccanico meccatronico. I tecnici sono molto richiesti e nel giro di due anni la preparazione che viene erogata è una preparazione ad alto livello con competenze soprattutto sviluppate nell'innovazione nell'ambito di Industri 4.0. I corsi TS forniscono competenze specifiche, innovative. Per questa ragione è importante che un giovane si approccia a questo tipo di formazione perché consente di entrare nel mondo industriale dalla porta principale avendo già delle competenze che consentono di avere un buon successo e una buona carriera lavorativa. I corsi sono aperti a ragazzi in possesso del diploma di scuola media superiore sia di tipo tecnico che di tipo liceale. Le iscrizioni si ricevono fino al 20 luglio e le prove di selezione sono il giorno 21 luglio a Vicenza. I corsi si terranno presso l'ITIS Segato e le iscrizioni si possono già effettuare sul sito www.itsmeccatronico.it